Cari amici di Milano 1, vedete siamo collegati con Matteo C'è un bellissimo cartellone di dietro, il fruttarolo, ma lo conosciamo bene Ciao Matteo, come stai? Ciao Paolo, tutto bene Bene, bene, andiamo avanti Senti, sei già pronto per sabato? Perché sabato andiamo a Volta Mantovana, vieni anche tu Certo, certo, ci vediamo al Palamarconi alle 3, alle 15 Stiamo preparando un po' di merda Palamarconi via Vivaldi Certo, tutta roba fresca, tutta roba buona Ci saranno i panini, perché guarda che già alcuni hanno scritto Panini di legumi Intanto c'era una signora che Scusa, se ti parlo sopra Scusa No, ti dicevo, una signora ha scritto Dice, ma Volta Mantovana ci sarà anche Matteo E io ho detto, va bene Oggi ci siamo sentiti Io e te, ti ho detto Senti, devi fare un collegamento perché forse qualcuno ha perso qualcosa Ma invece c'è, Matteo c'è Sì, sì, abbiamo cominciato a postarlo un po' sui social, però questo è una buona pubblicità No, è comunicazione, dai facciamo un po' di news Informazione Ci siete Ecco, informazione Perché sai, poi c'è anche qualcuno che magari ha voglia di provare questi prodotti nuovi Che poi quando facciamo le trasmissioni Piero dice, eh, la farina di quinoa, la farina di altri pseudo cereali Oppure qualcosa da bere di un po' particolare La marata, il grano saraceno, di fave Certo E allora noi portiamo sia le farine, sia i legumi cereali E poi portiamo il castagnaccio senza zucchero, i bocconcini di legumi Fatti con o farina di piselli, o farina di lenticchie, o farina di fave Poi portiamo il consueto pan quinoa, quello 100%, il pane di grano saraceno Infatti consigliamo alla gente, se segue questo video, di prenotare al 380-4379-298 Via WhatsApp o telefonicamente Così da arrivare alla conferenza e essere sicuri di trovare la spesa pronta Eh, ma è anche una comodità per tutti, eh Perché uno passa, saluta, magari guarda l'esposizione Però si trova già il sacchetto con le sue cose Sì, poi normalmente aggiungono Però se hai già la spesa pronta è tutto più semplice Perché normalmente ci sono molte persone E poi fai fatica in poche ore a servirli tutti Certo, io prima ho detto per forza si aggiunge Perché hai sempre tante novità, tante cose poi che prendono la gola, no? Perché c'è qualcosa di bello da vedere, buono da mangiare Quindi voglio dire qualcosa che uno dice Ma beh, ma questo video devo provarlo per forza È una novità, non è che... Per la gola ci sono i toroni senza zucchero e i croccanti Poi ci sono le crostatine, ci sono i muffin C'è se c'è gola dolce o gola salata Certo Senti, ma una curiosità Il castagnaccio fino a quando tempo va ancora? Ci sarà ancora febbraio? Sì, sì, sì Febbraio, marzo Dopo man mano va schiamando Normalmente quando può cominciare a arrivare giornate calde La gente non ha più voglia di castagno Sì, sì Eh, perché sai, ultimamente la gente poi non ha più il legame con le stagioni, no? Siamo abituati poi nei supermercati Il pomodoro lo trovi 365 giorni all'anno Ormai c'è tutto sempre Eh, infatti E non so se è un bene o un male Forse era meglio prima Eh, va bene Senti, caffè di cicoria c'è? Altro che Ok Siamo quello da usare con mocha Quello solubile E adesso abbiamo anche quello da borsetta Ci sono dei filtri di caffè di cicoria Che la gente, per dire, si ferma in un bar che non ha caffè di cicoria E vuole caffè di cicoria Si fa fare l'acqua calda e mette dentro il filtro E si beve caffè di cicoria Barra tisana di cicoria È molto comodo questa cosa qua Altro che, altro che Sì Questa qua è la novità di 2024? Sì, 2024 E era già in vigore Dopo è saltato per aria tutto E poi abbiamo ricominciato a scavare Certo Va bene Quindi Tutta la cosa I prodotti del Diciamo del fresco Della colazione Si trova Anche alla porta Sì, si trova dal pane Come dicevamo I bocconcini Il pane qui no Pane di saraceno Castagnaccio Tutti i cracker di legumi Piselli Fave Lenticchie Ceci E via dicendo E poi tutta la pasta secca Le farine Le crostatine Di quinoa Di amaranto Fette biscottate Senza zucchero Di quinoa Di amaranto E chi più ne ha Più ne metta Quindi anche Tutta la gamma dei biscotti Brutti e buoni Sì I baci di quinoa I baci di saraceno C'è un po' di tutto C'è un po' di tutto Poi durante le trasmissioni Io non leggo tutto Perché sennò Piero mi tirerebbe Anche le orecchie Però c'è della gente Che dice Ma allora Quei biscotti lì Posso mangiare Alla sera Mentre guarda la televisione E durante la diretta Non è che posso dire a Piero Guarda Questo signore Vorrebbe mangiare Due baci di quinoa Durante Mentre guarda la televisione Nella trasmissione Cosa gli dico Se li mangia la sera Se li mangia la sera Poi deve andare a fare Una passeggiata Perché è roba dolce Eh va bene E via Allora ci vediamo Sì ci vediamo Ci vediamo sabato Ci vediamo sabato Una cosa sola ancora Volevo dire ai nostri amici Che vedono uno spot Con i prodotti dell'Efebio Che sono prodotti di Cosmesi naturale Vegana Informazione Matteo li vende Quindi voglio dire Uniamo l'unico Il dilettevole Troverete anche questo Questa novità Li porteremo Li porteremo anche in fiera Così se qualcuno Vuole provarli O è curioso Di avere qualche informazione Ci sono Lo vedono Vedono le scatole Vedono i prodotti Vedono Vedono il prodotto Ecco Ok Quindi Matteo c'ha anche questa novità Ok E trovate tutto in fiera Come trovate tutto il negozio Da lui Non è Poi sono molto pratici Da portare in giro Perché essendo Essendo solidi Li tieni In borsa O in tasca Addirittura Guarda io Onestamente Ce l'ho Uso Quello shampoo Solido Carbone Io mi trovo molto bene Quindi voglio dire Lo consiglio Matteo allora Ci vediamo sabato A volta Volta Mantovana E poi ci vediamo sabato Va bene Grazie a tutti Buona serata Tu buon lavoro E ci vediamo sabato Buona serata a tutti Ci vediamo a volta Mantovana Sabato Alle 15 Perfetto E poi il negozio E poi il negozio è sempre aperto Quindi alla fine Se avete voglia di andare a pianengo Pianengo esiste Non è che Pianengo esiste Il negozio è aperto Dalle 8 Alle 18 Con orario continuato E trovate molto più Di quello che trovate in fiera Perfetto Noi facciamo il possibile Per spostare il negozio Però non sempre riusciamo Sì però c'è da dire Che spedici ovunque Altro che Una volta che Abbiamo il contatto Poi È abbastanza semplice Fornire la gente Direttamente a casa Proprio oggi Una signora ha scritto Ma Matteo fa Consegna ovunque Sì consegna In tutta Italia Sicuramente Bene vado di 15 chilometri Vado io direttamente Se è di più Vani di Corriere A seconda di dove sono Allora ti lascio libero Vai tranquillo Buona serata Buon lavoro E a tutti quanti Un salutone Un bacione a tutti Va bene Ciao Paolo Ciao a tutti Ciao Matteo Grazie Buon lavoro Ciao 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 a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti